Musica Signore e signori, buonasera I momenti più belli della nostra vita sono destinati a scorrere in apparenza più rapidamente degli altri Rivederci, fine andate E se un dia, in una noce di luna iena, mirando il cielo estrellato di suo paese e o se va a tenere la malinconia del mar, va a pensare in nosotros Nosotros estremo sempre qui e nel centro dell'osèano e inviandole nostro amore attraverso della luna Se vivedessi, siamo qui di rivela Ove fare il nostro comanda, hotel direttore e staff Mani dame, il mondo vieni a tutti Il mondo è avuto, perché era capitan, hotel direttore e staff Devonti all'arco, cavalli riusciti, venti forno gridire con nostro capitale e staff, hotel direttore e signor e signori tutti pronti giù con il nostro comandante per direttore di Stato Salute! Arrivederci, oh! Adios! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!